La Francia strappa il biglietto per Russia 2018 battendo 2-1 in casa la Bielorussia con le reti di Griezmann e Giroud. Una vittoria che consente alla nazionale di Deschamps di chiudere in testa il suo gruppo. Ai play-off andrà la Svezia nonostante il KO per 2-0 con l'Olanda. La doppietta di Robben all'ultima partita con la nazionale non basta agli Orange che guarderanno il mondiale da casa. In Russia ci sarà anche il Portogallo campione d'Europa che ha evitato i play-off battendo 2-0 la Svizzera. Gara decisa da un'autorete di Giroud provocata dall'interista João Mario e dal gol nella ripresa del milanista André Silva. Per il rosso-nero nono gol in dieci partite nelle qualificazioni. Agli spareggi andrà quindi la Svizzera che chiude il girone con gli stessi punti del Portogallo ma con una peggiore differenza a reti. La Grecia si assicura un posto nei play-off superando 4-0 Gibilterra. Vince 4-0 anche il Belgio trascinato da una tripletta di Hazard. Tra il 9 e l'11 novembre sono in programma le gare di andata dei play-off che vedranno coinvolta anche l'Italia. Gli azzurri, teste di serie, incontreranno una tra Svezia, Irlanda, Irlanda del Nord e Grecia.